Buonasera a tutti e benvenuti al rosario di questa sera. Siamo al 20 maggio e vogliamo in questo santo rosario ricordare e pregare il nostro don Andrea Beltrami. Ascolteremo alcune parole da lui pronunciate, una breve descrizione della sua vita e poi ci accompagnerà in questo rosario le parole di Papa Francesco. Vogliamo prendere come testo per il nostro santo rosario quanto trovate in descrizione del video. Vi ringrazio per aver mandato le decine che hanno arricchito il rosario di questa sera. Vi invito a mandare altre decine per il rosario delle prossime sere così da concludere bene insieme il mese di maggio, arricchire così in questo mese in cui abbiamo messo al centro il rosario Maria che ci ha accompagnato in questa quarantena con il desiderio che la preghiera possa essere un modo con cui noi ci uniamo al Signore. Iniziamo con il segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Iniziamo con la novena alla Maria Ausiliatrice. Leggiamo il testo della novena che trovate sempre qui sotto in descrizione. O Maria, Regina degli Apostoli, prendete sotto la vostra valida protezione i sacri ministri e tutti i fedeli della Chiesa Cattolica. Ottenete loro lo spirito d'unione e di perfetta obbedienza al romano pontefice e di zelo fervente per la salvezza delle anime e specialmente vogliate estendere la vostra amorosa assistenza sopra i missionari affinché possano condurre tutte le genti della terra alla vera fede di Gesù Cristo per far così di tutto il mondo un solo ovile sotto la guida di un solo pastore. Ci aiuta Don Bosco ad affidarci a Maria pregando per la Chiesa e per tutti i missionari e noi di Omenia ricordiamo Don Nur e siamo in comunione con lui nella preghiera. Nel primo mistero contempliamo la devozione di Don Andrea Beltrami alla Madonna. È ben radicata nel suo animo. Con la Mamma Celeste ha una tale confidenza che senza la sua invocazione non intraprende lavoro alcuno. Quando ammalato si sentirà consunto dal male che non perdona avrà la forza di ringraziare la Madonna per la grazia che gli è concessa. Da lei verrà consolato quando lo invocherà tanto da scrivere a Don Rua che senza medico e medicine con la sua invocazione della Madonna si sentiva quasi interamente guarito. Ci aiuta in questa prima decina del Santo Rosario assunta Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Che sia gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro il Signore e splenda ad essi la luce perpetua riposen in pace. Amen. Maria aiuto dei cristiani prega per noi. Dalla Catechesi di Papa Francesco Oggi guardiamo a Maria madre della speranza. Non era semplice rispondere con un sì all'invito dell'angelo eppure lei, donna ancora nel fiore della giovinezza, risponde con coraggio, nonostante nulla sapesse del destino che l'attendeva. Maria in quell'istante ci appare come una delle tante madri del nostro mondo, coraggiose fino all'estremo, quando si tratta di accogliere il proprio grembo, la storia di un nuovo uomo che nasce. E pregando per tutte le mamme, recitiamo questa seconda decina del Santo Rosario. Ci aiuta Giorgia Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. Maria non è una donna che si deprime davanti alle incertezze della vita, specialmente quando nulla sembra andare per il verso giusto. Non è nemmeno una donna che protesta con violenza, che inveisce contro il destino della vita, che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una donna che ascolta. Maria accoglie l'esistenza, così come essa si consegna a noi, con i suoi giorni facili, ma anche con le sue tragedie, come mai vorremmo aver incrociato, fino alla notte suprema di Maria, quando il suo figlio è inchiodato al legno della croce. Non è l'esempio di Maria quello di una donna che si arrende, ma sempre sa donare se stessa e vivere in pienezza ogni momento, anche più difficile, come quello di vedere il proprio figlio inchiodato alla croce. Ci aiuta in questa terza decina Veronica. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposini in pace. Amen. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. Nel quarto mistero, così leggiamo dalle parole di Papa Francesco. Maria la ritroveremo nel primo giorno della Chiesa. Lei, Madre di Speranza, in mezzo a quella comunità di discepoli così fragili, uno aveva rinnegato, molti erano fuggiti, tutti avevano avuto paura. Ma lei semplicemente stava lì, nel più normale dei modi, come se fosse una cosa del tutto naturale, nella prima Chiesa, avvolta dalla luce della risurrezione, ma anche dai tremori dei primi passi che doveva compiere nel mondo. E preghiamo in questa quarta decina per tutta la Chiesa e anche per la beatificazione di Don Andrea Beltrami. Ci aiuta in questa quarta decina Cinzia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. L'eterno riposo dona al loro Signore e risplenda ad essi la luce perpetua. Riposini in pace. Amen. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. In questa quinta decina del Santo Rosario, così leggiamo dagli scritti di Papa Francesco. Per questo tutti noi la amiamo come Madre. Non siamo orfani. Abbiamo una Madre in cielo che è la Santa Madre di Dio, perché ci insegna la virtù dell'attesa, anche quando tutto appare privo di senso, lei sempre fiduciosa nel mistero di Dio, anche quando Lui sembra ecclissarsi per colpa del male del mondo. Nei momenti di difficoltà, Maria, la Madre che Gesù ha regalato a tutti noi, possa sempre sostenere i nostri passi, possa sempre dire al nostro cuore alzati, guarda avanti, guarda all'orizzonte, perché lei è Madre di Speranza. Ed è proprio come Maria, Madre di Speranza, che Don Andrea Beltrami si è affidato nei momenti più difficili della sua vita. Preghiamo in questa quinta decina per tutti gli ammalati, per tutte le persone che soffrono e che possano trovare nella nostra preghiera e nella nostra vicinanza cristiana consolazione. Ci aiuta in questa quinta decina Matteo e Chiara. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te, suspiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi, con gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Concludiamo con la preghiera per la beatificazione del venerabile don Andrea Beltrami, che trovate sempre qui sotto, in descrizione. Dio nostro Padre, che hai fatto risplendere un raggio di infinito amore nel tuo sacerdote Andrea Beltrami Salesiano, noi ti ringraziamo. Sostenuto da grande fervore eucaristico, Egli ti ha offerto generosamente la sua giovane vita nel lavoro apostolico e nella sofferenza dei suoi ultimi anni, vissuta con Cristo sulla croce. Tu gli hai donato di sperimentare gioia nell'abbandono filiale alla tua volontà. Concedi a noi di seguire il tuo figlio Gesù nei giorni della gioia e in quelli della prova, con lo stesso amore che ha caratterizzato la breve e intensa vita di questo tuo fedele ministro. Ti supplichiamo di voler glorificare questo tuo servo e di concederci per sua intercessione la grazia che ti chiediamo. E allora, per in questi istanti, portiamo al Signore una grazia che vogliamo chiedere per intercessione di Don Andrea Beltrami. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Signore sia sempre con voi e rimanete in pace. Vi ringrazio per la preghiera di questa sera, per aver contribuito mandandomi una decina e vi invito a farlo anche per le prossime sere. Grazie a tutti, buonasera e buonanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.